Giosquillo ha perso la pazienza al grande fratello Vip. La concorrente ha scoperto ciò che si dice nella casa sul suo conto. Raffaella Fico e Aynette Stevens l'avrebbero accusata di non prendere mai posizione, senza però preoccuparsi di andare a dirglielo in faccia. Quando la cantante lo ha scoperto, ha discusso con loro. I concorrenti del grande fratello Vip sono riusciti a far perdere la pazienza persino a Giosquillo. La cantante, reduce dalla lettera ricevuta da Cico Forti, ha scoperto che nella casa non è tutto oro ciò che luccica. Molte persone che sembrano avere un'idea positiva di lei, poi parlano alle sue spalle. Le voci, rincorrendosi di bocca in bocca, sono arrivate anche al suo orecchio. Giosquillo è andata subito a chiarire con le dirette interessate, Raffaella Fico e Aynette Stevens. Nella casa del grande fratello Vip, i concorrenti mormorano. Alle bocche che parlano, tuttavia, corrispondono anche le orecchie che origliano e fanno in modo che il chiacchiericcio arrivi al diretto interessato. Così, Giosquillo ha appreso ciò che si dice di lei. A quanto pare, circolerebbero due pettegolezzi in particolare. Si dice che Giosquillo sia convinta che se si avvicina a Soleil, non possa più essere amica di Raffaella Fico e Aynette Stevens. Inoltre, sarebbe stata etichettata come la classica comodina che non si espone. Grazie a tutti. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.